ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove come vedete sono sommersa dalle piastrelle che ho preparato per realizzare questa copertina per bambino per bambina bambino insomma per neonato e la copertina arlecchino queste coperte o plaid o copertine a seconda di quello che noi desideriamo fare si chiamano così non solo perché magari sono di colori differenti i componenti perché diciamo possono essere anche di due colori uno può scegliere di fare questi componenti di due colori soltanto si chiamano così perché no il vestito di arlecchino avete visto caratteristicamente è formato da questi triangoli scusate da questi rombi colorati visto che sono rettangolari o quadrate a seconda delle esigenze poi c'è bisogno oltre che dei rombi no di mettere anche dei triangoli non potremmo in nessun modo finire con i rombi o meglio per carità però ecco verrebbe una cosa così per cui bisogna andare a realizzare anche dei triangoli sia costruiti lungo la diagonale minore del rombo e sono questi triangoli qua questi piccolini e invece queste metà questi triangoli qui che sono triangoli costruiti lungo la diagonale maggiore del rombo e questi invece bisogna realizzarli in maniera differente avete qui già visto che questo che io ho realizzato è una copertina per bimbo per neonato quindi quelle lì per carrozzina diciamo vi dirò i colori che io ho utilizzato e va bene già li vedete già li vedete sono fucsia viola verde acido e panna quanti rombi bisogna fare color panna quanti fucsia quanti viola quanti verdi quanti triangoli costruiti sulla diagonale minore bisogna fare di tutti questi colori e quanti di questi qua costruiti sulla diagonale maggiore panna perché questi sono solamente panna no vedete poi va bene passeremo alla realizzazione del rombo del coso qui del triangolo ma va bene quello costruito lungo la diagonale minore si fa praticamente interrompendo il rombo qui a metà nella lavorazione quindi non è che ci sia ci siano molte cose in più faremo questo invece che è quello quel triangolo no costruito sulla diagonale maggiore il rombo intero dobbiamo farne fucsia viola verde e panna i triangoli costruiti sulla diagonale minore del rombo bisogna farli fucsia viola verde acido e invece questi triangoli costruiti sulla diagonale maggiore del rombo che bisogna farli soltanto panna e messi così o messi per così è la stessa cosa si fanno entrambi i tipi nella stessa maniera quindi ecco bisogna realizzare una cosa del genere 75 per 85 che invece l'altra lunghezza esclusi quindi però le rifiniture intorno ecco adesso ho visto una cosa forte io non lo so se ecco se in telecamera se sul video si vede poi alla fine che siccome questo qui un colore fosforescente perché un pa un pastello però fosforescente se io faccio buio si vede ecco che fosforescente beh carino no forte allora sì faccio la foto a questo ve lo metto sul blog su instagram su pinterest sulla pagina facebook e tutto in modo che voi andate a vedere come ho distribuito i colori va bene poi vi potete fare anche un disegnino vostro se volete cambiare in modo che poi vi mettete i colori perché così li andate magari a assegnare no una volta che li avete fatti e mettete questo l'ho fatto questo l'ho fatto e vedete insomma quanta e quanti ne dovete ancora fare e poi ecco vi dico vi leggo qua quanti ne ho fatti io allora di rombi interi quindi questi qui ne ho fatti 12 viola che sarebbero questi poi 12 fucsia che sarebbero questi otto verdi e 35 panna quindi questi sono tutti i rombi interi che io ho fatto poi i triangoli costruiti sulla diagonale minore del rombo ovvero questi qui ne ho fatti sei viola sei fucsia e quattro verdi perché due due dall'altra parte poi invece i triangoli costruiti sulla diagonale maggiore del rombo che sono questi qui sono 10 e sono tutti panna ok anche di questo io vi faccio adesso uno screenshot e insieme al disegno ecco lo metto nei social appunto che vi ho appena menzionato anche qua si vede che è fosforescente ho lavorato tutta la copertina con l'uncinetto numero 3 e ho utilizzato due gomitoli da 50 grammi logicamente ciascuno per il viola due gomitoli sempre tutti uguali da 50 grammi per il fucsia un gomitolo per il verde e questo è l'avanzo e poi sei gomitoli per il panna e di questo sicuramente sei gomitoli perché poi oltre questa qua noi intorno andremo a fare adesso qua non l'ho disegnato perché comunque già questa ancora una fase prematura però noi che cosa andremo a fare col gomitolo panna tutte le unioni tra tutte le viastrelline e poi la parte poi e la contorneremo anche di panna quindi e poi andremo a fare tutto il contorno che va bene sarà necessariamente un paio di giri a maglie basse e uno di ventaglietti credo poi alla fine in definitiva però va bene comunque si tratta di una dimensione abbastanza considerevole per cui sei gomitoli ci vogliono tutti ricapitolando i pesi quindi sono 100 grammi più 100 grammi 200 grammi più 50 250 grammi più 350 grammi di bianco in tutto fa 600 grammi io credo che con 600 grammi possiamo andare bene se proprio volete stare sicuri prendetevi un gomitolo in più di panna però va bene poi magari che ne so mettetevi d'accordo con la merciaia o con chi comprate questi materiali e vedere dalla fascetta io qui vedo che questa lana che ho comprato io per 150 grammi sviluppano 175 metri ecco potete regolarvi anche in questo modo per avere diciamo una cosa simile alla mia però se trovate altri materiali ecco vedete fate il campione vedete con un gomitolo quanti rombetti qua e triangolini riuscite a realizzare e poi fate le dovute moltiplicazioni aggiungendo ecco per il panna che cosa una stima del contorno e delle unioni che andremo a fare a maglie basse lungo tutti questi lati quindi quella è una buona diciamo ce ne vuole una buona percentuale per fare quello lì non fa dell'errore come molto spesso si fa e come forse io ho fatto anche qui col verde di credere che queste coperte quasi realizzino con gli avanzi delle che abbiamo in casa ecco questo ve l'ho detto anche per le coperte granny square insomma per queste cose qui dove tutti magari tutti alcuni dicono eh abbiamo degli avanzi per cui via facciamoci la copertina le persone che lo dicono con gli avanzi molto spesso io dico vengono fraintese perché loro hanno ragione nel senso che siccome ne fanno tantissime magari ci sono dei canali dei blog delle persone che fanno solamente granny square coperta granny square eccetera loro hanno tantissimo materiale che avanza perché logicamente eh però comprano sempre la stessa cosa cioè il loro avanzo magari l'avanzo di una coperta matrimoniale che è sufficiente per fare ecco poi una copertina per bimbo non è un avanzo come lo intendo io tipo questo qui con questo qui io non ci faccio nulla se voglio andare a fare ecco una coperta al massimo ci posso fare un cannolè di qualcosa oppure una qualche riga su una sciarpa ecco non posso pensare di poterci fare grandi cose vi compongo un attimo questi rombi per vedere un po' come viene poi la nostra coperta ancora io devo realizzare ecco un po' di piastrelle bianche in più tutta questa parte qui questo lato ecco come come questo devo ancora realizzarli va bene comunque non ci vuole moltissimo tempo secondo me l'effetto cromatico che fa è molto carino e soprattutto ecco l'alternanza tra il contrasto quindi tra il bianco noi gli altri colori e poi queste due strisce verde acido che mi sembravano un pochino ecco differenti rispetto a tutte le altre copertine per bambini che sono sempre magari rosa no oppure celesti e tutto quel verde acido invece è un pochino più particolare ma ultimamente vedo anche da riviste cose che viene utilizzato molto anche per i neonati per i bambini ok adesso proviamo una cosa che praticamente io facevo quando ero piccola ovvero andavo in spiaggia no e facevo i castelli di sabbia e ma è anche la sfinge la piramide facciamo diciamo queste cose qua la pista credo tutti le abbiamo fatte queste cose e ci lavoravamo anche che ne so due tre ore poi la cosa più bella però alla fine era saltarci sopra e distruggere tutto quindi adesso chiamiamo Charlie e vediamo ok ti puoi anche togliere e questo è il risultato del passaggio di Charlie che adesso li rimetto tutti a posto e voi non avete visto nulla